Due ore di colloquio, nessuna agenda prefissata, soltanto una conversazione familiare. Così si è svolta l'udienza di Papa Francesco ai Vescovi irlandesi in visita ad Limina, la prima dopo la pausa per l'Anno Santo della Misericordia. Tutti i temi sono stati messi sul tavolo, come in una partita di calcio, hanno raccontato i Vescovi in conferenza stampa, a oltre dieci anni dai loro ultimi colloqui in Vaticano. Dalla vita alla famiglia, dalla povertà all'educazione, non tralasciando la piaga degli abusi sessuali commessi da esponenti del mondo della Chiesa. Tendere la mano verso le vittime di tali abusi è la via indicata dal Papa col suo esempio, ha detto l'arcivescovo Imon Martin, primate d'Irlanda, proprio mentre a Belfast, in Irlanda del Nord, veniva reso noto un rapporto riguardante abusi su minori commessi tra gli anni 20 e gli anni 90 del Novecento. Io sono ben consapevole del fatto che mentre noi siamo seduti qui in questo momento, a Belfast ci sono vittime sopravvissute agli abusi che per fortuna stanno avendo la sensazione, dopo tanto, tanto tempo, che la loro storia stia finalmente venendo fuori. Le loro storie e le loro esperienze sono state riconosciute da parte della Chiesa, della società, dello Stato e di tutti. Io so che coloro che sono stati vittime di abusi si porteranno dietro questa esperienza per tutta la vita. Quindi quello che ho percepito è che ogni volta in questa settimana abbiamo avuto conversazioni, toccando a volte anche argomenti estremamente gravi come questi, un'atmosfera di apertura ci ha permesso di parlare veramente a cuore aperto di fatti che se fossimo ancora nel passato avremmo ottenuto per noi stessi. Ne ha parlato anche Monsignor Diarmut Martin, vicepresidente della Conferenza Episcopale Irlandese. Il numero degli abusi commessi all'interno della Chiesa era poco rispetto a quello della società più grande. C'è una differenza di qualità, perché un abuso che succede nella Chiesa di Gesù Cristo, dove Gesù stesso ha messo il bambino come segno del regno di Dio, ha una qualità, una negatività, tutt'altro che quello che succede nella società. La Chiesa irlandese, hanno sottolineato i presuli nel corso della visita ad Limina, ha molto da dire alla Chiesa Universale, proprio perché è passata attraverso questo dramma, ha riflettuto, ha collaborato con le autorità civili e penali. Un profondo rinnovamento è in corso. Ancora l'Arcivescovo di Dublino. C'è stato forse un riconoscimento, rispetto a dieci anni fa, dei progressi che la Chiesa in Irlanda ha fatto. È vero che la storia non è una storia di successi in termini di numeri. C'è il calo nel numero delle vocazioni, il calo del numero delle persone che vengono che vengono ammesse la domenica, ma ci sono altri segnali di crescita, di rinnovamento che sono significativi. Anziché criticare la Chiesa in Irlanda, c'era una volontà di incoraggiarci di continuare su questa strada.